Tornano ad aumentare in Abruzzo i casi di positività al covid-19. Sono quattro quelli registrati oggi su un totale di 1.340 tamponi analizzati, lo 0,3% di positivi sul totale. Resta invariato invece il numero dei deceduti, 453. Aumenta di 15 unità quello dei dimessi e guariti, arrivati a 2.290, mentre 2.170 sono le persone che hanno definitivamente risolto i sintomi dell'infezione, risultando negative a due test consecutivi. In Abruzzo, dall'inizio dell'emergenza, sono stati registrati 3.271 casi di positività al covid-19 e gli attualmente positivi, sottraendo il totale dei positivi al numero dei dimessi e guariti e dei deceduti, è di 528 con una diminuzione di 11 unità rispetto a ieri. 76 sono i pazienti, meno 5 rispetto a ieri, ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 4, meno 1 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 448, meno 5 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 88.739 tamponi, di cui 82.747 sono risultati negativi. Del totale dei casi positivi 246 si riferiscono alla ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 826 alla ASL Lanciano-Vastochieti, 1536 alla ASL di Pescara e 663 alla ASL di Teramo.